Musica Ciao a tutti ragazzi sono Infinitator e Belletro con un nuovo video Oggi non faccio un video come gli altri ma faccio questo video soltanto per dirvi una cosa Ho deciso totalmente di rivoluzionare il modo in cui farò la Twitchcraft Inizialmente doveva essere una vanilla che solo gli abbonati e i miei amici fidati potevano giocare con me Adesso ho rivoluzionato tutta la cosa Intanto prima di dirvi della Twitchcraft mi scuso perché nel video di ieri mi sono scordato di mettere lo sticker Però in questo video lo metterò, state tranquilli che lo metterò Le tre persone fortunate che scriveranno un minutaggio nei commenti dello sticker potranno essere salutate nel prossimo Ma io vi dico un pochettino come imposterò la nuova situazione Twitchcraft Intanto per prima cosa farò partecipare anche chi non è abbonato Però in quel server lì metterò a chi entra nel server che è tra gli abbonati Gli darò un intero set di nederite, armatura e attrezzi compresi quindi spada, ascia, piccone eccetera E uno stack di mele dorate OP Il set di nederite e le mele OP sono per chi si abbonerà al canale quando avrò gli abbonamenti Però visto che mi manca un pochettino giocare con i fan così anche se non sono abbonati ma sono iscritti o follower e basta Aprirò la vanilla a qualsiasi persona, a qualsiasi persona tranne i griffer e la gente che mi odia Andatemi a seguire su Twitch anche se in questi giorni lo sto facendo live Perché molto presto ritornerò a fare stream dove giocherò un pochettino in questa nuova Twitchcraft che creerò Ci sarà lo spawn, potrai scegliere il punto dove spawnare totalmente a caso, ne metterò 50-60 diversi Premi il pulsante, spawni lì e poi nulla E da una vanilla tutta normale Io sarò sempre in creativa Anche i miei amici, quelli più fidati, faranno la vanilla regolarmente E non da operatori come me Ovviamente ci possono entrare soltanto chi ha la mia amicizia su Microsoft e PS4 E di conseguenza ci può entrare soltanto chi ha la Bedrock Edition Chi ha la Java mi dispiace ma non ci potete entrare in questo mondo I fan o i miei amici fidati faranno la vanilla regolarmente così Nel mentre che io ci avrò una reggia C'è una reggia tutta mia grande, lussuosa Sarò sempre in creativa E il mio compito sarà non solo di sorvegliare come sta andando il mondo Ma dovrò anche uccidere Un po' rude ma Uccidere chi non rispetta le regole Tipo chi scrive parolacce o bestemmia in chat Chi... Quasi 4 minuti ma cruciali per l'andamento del canale sia YouTube che Twitch Perché alla fine questa Twitchcraft la porterò soltanto su Twitch Al massimo se ce la faccio cercherò di fare anche qualche highlight su YouTube E nulla Noi ci vediamo domani con un nuovo video Da Infiltrator è tutto Ovviamente iscrivetevi al canale e lasciate un bel mi piace Ciao ragazzi Ciao ragazzi